Prima londinese per l'attore Russell Brand, con moglie a seguito la cantante pop Katy Perry. Sta per uscire nel mondo e in Italia il 6 maggio la sua ultima fatica di comico, Arthur, remake dell'omonima pellicola del 1981. Nel film spicca anche il premio Oscar Ellen Mirren. È un originale, di questi tempi è difficile essere originali. Penso a tutti gli attori che hanno fatto commedie di genere o si sono cimentati in ruoli così, ma nessuno è come Russell. Il playboy milionario Arthur, obbligato dalla madre, sta per sposare una donna ricca ma che non ama e continua a comportarsi in modo irresponsabile tra grandi bevute e feste mondane. Russell Brand è magnetico ed anche se avete la fortuna di incontrarlo dal vivo, parlo della gente che ci ascolta e l'ha visto, ha come la sensazione di averlo già conosciuto. Ti guarda dentro nell'animo, è straordinariamente sensibile. Sembrerebbe una macchietta ma ti conquista. Poi la sua vita cambia improvvisamente quando si innamora della bellissima Naomi, una guida turistica e aspirante scrittrice di libri per bambini. Arthur dovrà fare una scelta tra l'amore e i soldi.